Oddio, bisogna frettarsi. Sconti a manetta. Halloween. Best friend. Miglior amico. Oddio, non ne ho idea. Best friends. Oh no! Best fashion. Best friend. Black Friday. Il giorno del Black Friday. Eh, sarà il Black Friday immagino. Halloween. No, no! Pare che faccio gli anni, però non sarà il Black Friday. Il risparmio. Sconti a manetta. Sconti? Sconti, va. Sconti vantaggiosi. Eh, sto cercando di comprare qualche felpa che non me la trovo. Aspetteremo il Black Friday. Se ci sono magari delle offerte oppure comunque vestiti, non ancora. Magari qualcosa di tecnologia. Molto sui viaggi. Oddio, bisogna frettarsi. Woo! Wow, non vedrò.